Terors, mamma che paura questa partita, l'avete inseguita, però avete trovato questi tre punti, nel momento giusto avete fatto le cose migliori, poi sugli errori ci ragionerete più avanti. Sì, era una partita abbastanza difficile perché non abbiamo giocato tutti i set, sempre un po' di punti abbiamo sbagliato, troppo tanto preso, sempre su e giù. Qual è il problema di testa soprattutto? Un problema tecnico? No, secondo me è mentale perché abbiamo tecnica, abbiamo fisicamente, siamo molto buoni, ma quando abbiamo una palla difficile dobbiamo giocare, non sbagliare. C'è da dire che Latina non merita l'ultimo posto in classifica, sei d'accordo? Cioè è una squadra che comunque può fare risultato anche con tutte, oltre che con voi, anche con tutte le squadre? Sì, sì, non è una squadra per questo posto, secondo me è forte, con un palleggiatore, ho posto molto forte, anche in banda eccetera, sì. Era da un mese che non giocavate qui in casa, era importante ritrovare il vostro pubblico, adesso è importante averlo ancora più numeroso domenica prossima perché c'è Macerata. Questa è una bellissima partita, mi ricordo l'anno scorso qua con un palleggiatore pieno, secondo me possiamo giocare un po' più libero perché loro sono il numero uno e noi andiamo e vediamo dove arriviamo. Grazie, ciao. Grazie a tutti.